Grazie a tutti. Il microfono ruba la voce all'attore e la consegna a una macchina che si chiama altoparlante. A quel momento il teatro è parola, decade, annulla. Il teatro è una conferenza, si può fare così, perché c'è bisogno del logos in una conferenza. A teatro c'è bisogno della physis. Sono all'università, non ho bisogno di spiegarvi che cosa vuol dire. Il logos in teatro è physis. Come comunica il logos da qui a lì? Con la physis. Quello è un attore nato, no? È un attore nato perché ha la physis dell'attore, da cui la fisicità logica. Sarebbe la traduzione corretta. L'attore è questo. Il teatro non può avere il microfono per una questione di carattere filosofico, non per una questione di carattere estetico. Non può, non può. Io sono l'unico che è andato a Siracusa e ha fatto, lui pure, ma lui appartiene a una generazione precedente a quella mia. Ho fatto l'edipore di Sofocle senza microfono. Tutti usavano il microfono. E dai che mi dicevano, ma no, ma guardi maestro, no. Cioè io vengo a Siracusa e uso il microfono? Ma siamo malati di mente. Ma come? Io mi ricordo, essendo io, diciamo, di origine siciliana, mio padre ci portava da bambini a Siracusa e faceva il giocarello. Bambini, bambini, ci metteva in cima là e lui pigliava un foglietto di carta, faceva che bello papà, si sente tutto. E poi lui diceva, Gabriellino, Gabriellino, mi raccomando, non fare i capricci. E si sente tutto. Oh, adesso arrivano gli attori, non si sente più nulla. È successo qualcosa. Cos'è successo nel frattempo? Hanno sbagliato la dieta. Hanno mangiato male. Ma c'è un'altra cosa però, perché anche se usano il microfono, se usano il microfono, non si capisce quello che dicono. Manca molto spesso articolazione e dizione. Ah, può essere, io non lo so, però, perché lavoro sempre con attori con i quali lavoro da tanto tempo. Però è vero, può essere, sì. A volte... Ma forse andrà in quella direzione tutto, non lo sappiamo. Io ormai sono, avendo 81 anni, posso ben dire che sono vecchio. Glauco, che ha più anni di me, credo 10 o 11, ecco, quindi ne ha... Lui non è vecchio, lui è eterno. Quindi ha fatto il giro, è giovanissimo, è il più giovane di tutti noi. E lì io mi ricordo ancora quando lui diceva, io ero un giovane, promettente, giovane attore, e lui faceva tito andronico. E c'era una scena, io lo rubavo tutto dalle quinte, perché un attore, come diceva Picasso, dice io non copio, rubo. E quindi rubavo da lui e c'era un momento che era incredibile, lui diceva qua una spada! E in quel momento qua una spada! Chiede la spada perché si deve tagliare la mano! Perché Saturnino, che facevo io la parte di Saturnino, aveva chiesto ad Aaron di andare da lui e chiedere la sua mano. La mano... e lui si tagliava la mano in scena. A proposito di questo, volevo raccontarti una cosa, vera, che è successa. Noi questa cosa la facevamo a Verona, teatro, c'erano dei camerini di legno, ti ricordi? E siccome le critiche non ti avevano messo tanto in risalto, tu una volta, tu non avevi la chitarra mi sembra allora, sei venuto in camerino da me, e mi hai detto, perché avevano esaltato magari qualcuno, c'era Margini, quei ragazzi lì, e ho detto, forse non è giusto, faccio teatro. Io ti ho detto, senti, continua a fare teatro, tu ti verrai un grande attore, non ti ricordi? No, non mi ricordo. Bene, questa è la verità. Ho detto, tu, continua a fare teatro, è un momento di sconforto che ti è passato. Vedo bene. Ma leggevo ancora le critiche, pensa te, quindi dovevo essere molto sconfortato. Per continuare, allora, visto che si parlava di voce, e via dicendo, che cosa è la tecnica per un attore? La tecnica per un attore non è tutto, ma è tutto ciò che serve per fare di sé quello che si è, non essere quello che si è, perché uno è quello che è, però noi in scena mettiamo in scena, mettiamo in opera, cioè una forma di arte. L'arte, che cos'è? La messa in opera di una certa verità. Il pittore, Van Gogh, mette in opera una certa verità, che è una sua verità. Velasquez pure. Adesso, in questo momento, mentre vi stavo parlando, ho proprio fotografato il Cristo di Velasquez, il famoso Cristo, che sta al Prado, che è un Cristo che io, quando vado, la prima cosa che devo fare è andare a vedere questo Cristo di Velasquez, è il Cristo con i quattro chiodi. Non con i tre chiodi della Trinità. Quattro chiodi dell'uomo. I piedi ce li ha uniti. Ma cosa? Ti ricordo? È una cosa che... Ecco, lui, la messa in opera della verità, l'arte, Martin Heidegger, che non è l'ultimo venuto, definisce l'arte in questo modo, la messa in opera della verità. Che cos'è la verità? Poi si domanda. Lui dice, la svelatezza dell'essere. E quindi, qui comincia un delirio, ovviamente, di abisso. Il teatro, cioè l'attore, il teatro, alla fine, che cos'è? È il rapporto fra un attore e degli spettatori. alcuni riescono ad avere un rapporto vivo, altri ce l'hanno un po' più assonnato, altri non riescono ad avercelo, non è un merito, è innato tutto ciò. è un fatto che, che cos'è? Sì, filosoficamente si può anche cercare di definirlo, l'essere attore che è colui che riesce a far sì che lo spettatore sia l'essere quello spettatore che è. È tutto lì. Lui, per esempio, io non posso dimenticare mai le cose o a cui ho preso parte, o che ho visto di lui, che l'ho visto ovviamente nella mia vita, non sempre, perché stavo in tournée pure io, ma l'ho visto tantissime, tantissime, tantissime volte e Glauco certamente è probabilmente il mio attore preferito e ne due ne avevo, lui, Glauco, e poi un altro attore completamente diverso, Turi Ferro. Ma attenzione, io ho lavorato con Streller e Streller diceva eh sì, era che bestemmiava molto, era un grande bestemmiatore, ma un santo però nello stesso tempo e diceva qui ci vorrebbe Glauco, arriva Glauco, attraversa la scena, oppure altra cosa, e vabbè, e qui ci vorrebbe Turi, Turi Ferro, Turi Ferro, Turi, arriva, fa così con la mano, dice ma sì, cosa vuole, si vuole così siciliano, e aveva ragione, che Turi Ferro era un altro per vie completamente diverse, completamente diverse, Turi Ferro entrava in scena e tu non staccavi più gli occhi da lui, io ero un ragazzino quando lo vedi fare per la prima volta nella mia vita il berretto a sonagli, non potrò mai dimenticare, era un ragazzino, la scena delle tre corde, delle tre corde, la corda seria, la corda civile e la corda pazza, noi abbiamo tre corde nella testa, la corda seria, la corda civile e la corda pazza, naturalmente dovendo vivere in società quella che ci serve maggiormente qual è? E' la corda civile per cui sta messa qua in mezzo alla fronte, ci mangeremmo tutti come tanti cani arrabbiati, si può? Non si può, allora che faccio? una bella gelatina e tutta quella meraviglia, l'hai mai fatto? Ah, l'avresti fatto magnificamente, io l'ho fatto, perché lo vedi fare attori? e sai quando arriva quella dannato momento nella vita di un attore che ti dicono allora Gabriele che facciamo l'anno prossimo? le angosce e si e Giorgio Streller gli esempi che faceva erano sempre con lui e con Turin che sono due attori completamente diversi completamente diversi vuoi sapere che cosa non dimenticherò mai di te? Santa Giovanna dei Macelli lui eh tu lui attraversava una scena forse non lo sapeva nemmeno ma a me c'era il controluce e dicevo cazzo è Chaplin aveva una cabinata non so se te l'aveva detto Giorgio mi ricordo come un periodo meraviglioso perché era la prima volta che lavoravo con Streller e fu quindi una un'apertura incredibile perché la cosa di Streller è che riusciva a capire anche quelle cose che tu dentro pensavi ma non avevi non il coraggio non avevi la capacità di esprimere lui intuiva ti fermava e diceva ma tu perché tu volevi dire questo sì e perché non lo dici perché non lo fai intuiva anche le cose che tu non riuscivi a esprimere ma erano dentro di te grande maestro grande maestro sì 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 beh tu hai fatto anche Streller sì mi ricordo bellissimo ho fatto con lui uno dei suoi spettacoli più importanti almeno era il suo rientro al piccolo teatro Streller è stato uno spettacolo di una Edgar Edgar sì pensa che io e Roberto siamo venuti dall'Inghilterra per vedere eravamo ricordo bellissimo il spettacolo mamma mia mamma mia e ecco nei primi anni settanta sì però poi si è stabilito con Streller un rapporto di amicizia di 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 io andavo sempre a vedere le sue prove e e mi scriveva ogni tanto dei su dei pezzetti di carta quadretti strappati alcune cose che conservo un'altra qualità umana un'altra storia nella vita era quando provava però quando lo prendevi a quattro occhi poi io andavo spesso a vedere le sue prove e quando ero diventato più maturo diciamo che facevo il regista e lui ovviamente diceva che non andava a vedere ma veniva perché è vero diceva che non andava a vedere poi sentivi che vedeva di nascosto andava a vedere di nascosto non so perché poi mi diceva ho visto sì così ah bravo bravo hai usato il nuovo proiettore a scarica eh perché aveva lui la mania delle cose tecniche ultime eh beh sì sai grande maestro grande maestro grandissimo ma comunque voi avete molte cose in comune una la prima anche in ordine cronologico è l'accademia la prima è l'accademia l'accademia d'arte drammatica e avete comunque in comune un maestro che costa sì anche se credo che poi nella composizione del degli insegnanti tu dovresti aver avuto Elena da Venezia mi pare ho avuto Elena da Venezia Ione Morino Ione Morino sì e Tofano certo anch'io Sergio Tofano ah quindi più o meno sì lui l'ha fatta un po' di anni prima di me eh per me è stato importantissimo all'accademia anche perché uscivo da Pesaro dove nel 49 a Pesaro non c'era neanche l'autobus e andando a Roma per me era come adesso andare a un posto sconosciuto non sconosciuto che non avevo mai visto non conoscevo nessuno era bellissima ho conosciuto Roma arrivando con una piccola valigetta ho fatto a piedi dalla stazione perché a un certo punto ho detto via Famagosta dove c'era di Giulio Cesare dietro dietro a San Pietro e lui mi ha detto prendetele Filus no 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 e allora deve chiedere ognuno ma l'ho fatta a piedi e ho conosciuto Roma così bellissima bellissima ma sei tu che devi parlare io qui ho parlato tanto guarda e appunto erano tutti insegnanti abbastanza diversi sì sì e mi piacerebbe che tu ma io avevo Ione Morino Ione Morino una signora che poi si è suicidata si è buttata da Ponte Milvio era vecchia sola probabilmente Ione Morino erano due sorelle avevano lavorato con Pirandello nella messa in scena della prima edizione dei sei personaggi in cerca d'autore Ione Morino faceva la prima attrice quella che arriva in ritardo sì 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 maestro sono qui e la 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 sorella come si chiamava la sorella Ione Morino un pochino più lungo Morino naturalmente anche lei che faceva un'altra parte nella forse forse la prima attrice lei non mi ricordo comunque era Lavio ma lo sa cosa sta recitando è Pirandello è Pirandello non la perdona Pirandello le pugna le pugna perché evidentemente Pirandello quando parlava dei pugni lo diceva un po' alla siciliana le pugna perché le pugna è il plurale di un nome latino neutro capito in Sicilia si usa spesso e si usava adesso non lo so poi avevo Elena da Venezia Sergio Tofano naturalmente Orazio Costa e cosa faceva? come insegnava Tofano? Tofano ma devo dire una cosa nessuno di questi insegnanti aveva un metodo dicevano più o meno prendevano una scena che ti posso dire di Gabbiano la scena fra Nina e Trigorin per dire e c'è l'attrice che fa Nina e e quell'altro un attore che fa la parte di Trigorin allora la scena famosa è che comincia ah buongiorno Boris Alexievich ah buongiorno circostanze improvvise ci costringono a partire oggi e allora no il ragazzo l'allievo dice l'allieva in questo caso buongiorno no no buongiorno ma buongiorno ah buongiorno no buongiorno insegnavano le intonazioni un po' su un po' giù un po' qua un po' là annaspavano anche loro eh Orazio invece Orazio Costa aveva un metodo suo che lui era Orazio era un grande intellettuale una persona estremamente colta e e lui aveva sviluppato un metodo che chiamava il metodo mimico questo metodo mimico tendeva a far sì che il logos diventasse anche fysis non fosse solo parola ma anche corpo fisicità lui lui aveva aveva studiato questa cosa scritto libri quaderni e aveva questo metodo mimico che naturalmente all'accademia poteva insegnare in maniera maldestra se vogliamo perché non c'era il tempo perché c'erano troppe ore troppe lezioni è un errore avere tanti insegnanti tante cose ci vogliono due insegnanti non è che servono tutti gli insegnanti per insegnare a stare in piedi sul palcoscenico ne servono due ma veri veri storia del teatro e recitazione basta fine gli altri invece Orazio aveva solo due ore a settimana quindi era troppo poco non di meno anche se credo che Orazio non sia riuscito a portare fino in fondo il suo metodo e anche se quando era vecchio e abitava poiché era veramente povero perché un paese fatto così questo bisogna dirlo dove i migliori o sei inciuciato oppure non succede nulla in questo paese sbaglio è così allora Orazio alla fine Leti ente teatrale italiano aveva dato a Orazio una casa che stava all'ultimo piano della pergola del teatro della pergola di Firenze e lui e quando andavamo a Firenze uno saliva e lo andava a trovare si chiacchierava un po' con lui e lui aveva questa idea l'idea era questa che la parola non è la prima cosa e che prima di tutto c'è un sentimento di fisicità c'è una physis prima del logos la dico in greco così capite meglio prima del logos viene la physis e poi viene il logos quindi se io devo dire che posso dire vento dice c'era un vento dice viene naturalmente per il corpo umano per dire vento c'era un vento ragazzi ma un vento una noia una noia no dice il mare ma che ti posso dire il corpo poeta in senso etimologico poiein mette in opera il corpo mette in opera il logos in altri termini la physis mette in opera il logos questo suo modo di recitare che non di avvicinarsi al teatro al mistero dell'attore fisiologico evidentemente era il suo metodo che però aveva anche probabilmente dei difetti delle cose insomma i libri che i quaderni che lui ha scritto e che una sua assistente ha raccolto sono veramente notevolissimi peraltro notevolissimi no Orazio era una persona di una cultura fuori dal normale fuori ma proprio fuori tanto che Streller forse ve l'ho detto prima ogni tanto diceva eh cazzo qui ci vorrebbe Orazio eh Orazio e naturalmente gli attori quando si parlava di Orazio Costa lo pigliavano un po' in giro e lui e Streller no no Orazio è un'altra storia ed era vero Orazio era un'altra storia perché lo prendevano in giro? perché lui aveva fatto la prima comunione a 47 anni San Francesco quelle cose lì anche per te io avevo molto a lui lui faceva fare degli esercizi addirittura mettermi in moto faccia fare degli esercizi mettendo in moto il corpo in cui dovevi esprimere una parola lui ti diceva a volte dimmi una parola non so evidentemente dico esprimile col corpo questo è quello che mi ha insegnato Costa cioè ogni parola ha una sua personalità e se uno pensa veramente a queste cose il modo di dire le parole diventa diventa più importante più non so come dire più misterioso lui diceva una volta nel suo parco c'era se devi dimostrare col corpo una parola qualsiasi evidentemente naturalmente tu lo devi fare questo ti costringeva almeno quello che ho provato io a mettere la tua fantasia dentro il tuo corpo e il tuo corpo esprimeva la parola anche se non la dicevi questa è una delle cose per cui era preso in giro molte volte per queste cose però infatti Streller diceva è vero Orazio è un'altra storia ed era un'altra storia ovviamente con tutte le sue cose un uomo che aveva fatto la prima comunione a 47 anni ecco e quindi ad esempio Costa per me che è stato come regista non molto valutato ha fatto uno spettacolo a San Mignato su San Francesco la predica agli uccelli era una scena che lui aveva preso da coppò praticamente a tre piani con varie porticine e delle scalinate alla fine Francesco rimaneva solo e parlava con la predica agli uccelli in alto e a poco a poco tutti gli altri attori uscivano da una porticina ognuno con un proprio ritmo uno aveva il ritmo del passaro l'altro il ritmo del volo lanciato uno invece ed erano venti persone che salivano su con vari ritmi e alla fine si riadunavano intorno a Costa a un certo punto tutti eravamo seduti di spalle al pubblico a un certo punto lui lanciava un preciso saluto e lui ci disse adesso sa cosa dovete fare? una cosa che lasciò sbalorditi molti dissero ma come? questa banalità vi voltate e fate una cosa banale come facciamo bene ci voltavamo e nel silenzio venti attori che facevano e veniva un applauso commosso da parte del pubblico quindi faceva anche queste cose qua è bellissimo anche come l'hai fatto adesso è una delle cose che mi è rimasta più ho avuto la fortuna di partecipare a questo spettacolo e che quando disse io mi ricordo c'è l'altro anche attore di cinema quando disse questa cosa si guardavano sbalorditi come dobbiamo fare si fatelo la gente dice ma questo è pazzo fare una cosa così banale era stupendo quindi questo è costo non lo voglio fare in uno spettacolo ma però citerò le due fonti la tua è quella di Orazio però deve essere bellissimo non vedo l'ora di farlo ci vogliono tanti attori però eh sì non bastano cinque tu pure hai fatto uno spettacolo ancora allievo hai fatto Dante in una dimostrazione in un saggio sui canti danteschi adesso non so quali erano non lo ricordo nemmeno io ma Orazio mi chiamò per fare lui aveva una scuola a Firenze no no all'accademia questo è un saggio dell'accademia e in un saggio dell'accademia c'era ho fatto Dante? sì ah sì sì è vero sì sì mica niente è Dante sì sì facciamo molti canti della Divina Commedia sì ma questo allora mi interessava perché un altro aspetto molto importante nell'insegnamento di Costa è la capacità di dire i versi sì mi piacerebbe che tu riflettessi un'anzio una differenza tra lavorare su un personaggio e lavorare con dei versi sì Orazio aveva amava molto diceva che la recitazione dei versi aiutava poi cioè dava all'attore una padronanza sulle parole che nella prosa sarebbe stata utile ma aveva ragione lui aveva sempre ragione lui cioè per esempio noi abbiamo fatto tanta Divina Commedia tanta 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 avete fatto tanta Divina Commedia Divina Commedia sì abbiamo fatto anzi poi con degli allievi di Orazio Maricla Boggio per dire non mi ricordo se era Maricla Boggio in quel caso o se era Vittorio Fiorito o se era aspetta quell'altro erano tre della mia epoca e addio uno di Torino e comunque facemmo uno spettacolo con la 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 niente ognuno ci si divideva fai conto e c'era Dante che faceva nel mezzo del cammino di nostra vita eccetera 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 e e poi c'era che ti posso dire c'era Paolo c'era Francesca era un po' la Divina Commedia sceneggiata però comunque ci dovevamo smazzare con i versi di Dante non nulla orazio credeva molto nella recitazione in versi come palestra il dominio del verso poi la prosa ve la fa dominare meglio ma Alfieri Alfieri Pilade sì questa è mia reggia o gioia Pilade amato molto ci faceva fare Alfieri sì sì l'ho fatto anche in televisione con lui ho fatto il Filippo di Alfieri Filippo lo faceva Giancarlo Sbragia io facevo Don Carlos Ilaria Occhini faceva Isabella e c'era aspetta aspetta Massimo Foschi faceva Pilade sì sì che mescolanza Massimo ah ma mio resta i miei consigli ascolta questo è il ristoro che io per me ti chiego e lui Massimo Massimo aveva la voce da basso profondo e tu ricordi questa dimostrazione che avete fatto in accademia a Venezia con ah no ecco ecco Venezia tu stai parlando una volta a Venezia era molto bello per noi ragazzi perché c'era una grande festa una grande vacanza anche di carattere erotico eh parliamoci chiaro perché c'era il festival delle scuole d'arte drammatica di tutta Europa quindi figurati capisci ecco e noi andammo l'accademia c'ero dunque io con me c'ero io poi Antonella squadrito e poi eravamo in Dorotea 4 3 che facevamo non mi ricordo credo facevate letra ah bravo bravo l'Oreste l'Oreste di Alfieri sì e la fiaccola sotto il moggio ecco facevo anche la fiaccola sotto il moggio facevo Simonetto anche sì sì me lo ricordo non mi ricordo una parola mi ricordo di Oreste me lo ricordo perché poi l'ho fatta all'Argentina eh e doveva essere una dimostrazione di lavoro del metodo Costa ah sì 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 adesso mi ricordo eh alla fondazione Cini all'isola di San Giorgio a Venezia ma non si fa più quello questa è finito tutto per esempio una volta tu ti ricorderai perfettamente quando a Venezia c'era il festival dei teatri stabili ah sì io ho visto il Berliner Ensemble fare Arturo Ui io ti dico quando l'ultima battuta di Arturo Ui quando Arturo Ui viene lì davanti si toglie i baffi il ventre che l'ha generato non applaudite il ventre che l'ha generato è ancora fecondo io stavo con dei miei amici qua e tutti piangevamo come delle viti tagliate non ho mai visto uno spettacolo così e il giorno dopo Coriolano no no non si può credere che spettacoli Coriolano grandissimo spettacolo ovviamente ma quello qua è Carciall è Carciall di cosa stiamo parlando la battaglia la battaglia di Corioli era fatta c'era un muro in mezzo no? a metà del palcoscenico questo muro però stava su un girevole e quindi questo muro girando faceva vedere il di fuori e il di dentro della città ma gli attori erano sempre quelli ed erano non so saranno stati 15 al massimo sembrava un esercito non credo la scena più bella che abbia mai visto in vita mia mentre Arturo Ui certamente è stato lo spettacolo più bello che io abbia mai veduto in vita mia dopo vita di Galileo con la regia di Streller che vidi quattordici volte e c'era Tino che diceva ah Gabriele stai sempre qua ma con il tesero tutti i coglioni eppure e siccome io ero molto povero e Tino Vuazzelli era generosissimo diceva allora vieni a mangiare ma no io vado a casa ma Dante mi preoccupa vieni qua ecco mi offriva sempre la cena perché era sì l'ho visto no non avete idea non avete idea che cos'erano lui e Tino erano proprio Gianni e Pinotto e per dire l'umanità di Tino lui era tifosissimo della Roma e quando c'era la domenica le partite alla radio lui voleva che il direttore di scena stessi in quinta hanno segnato il gol seguiva e si distraeva e io allora con grande educazione spingevo sempre ritmi più serrati per allora l'ultima recita la facevo a Sistina di Baudet-Bagocce alla fine lui mi chiamò vieni in camerino da me chiuse la porta c'era una bottiglia di champagne in mezzo al ghiaccio sta poco verso un bicchiere per ringraziarti di avermi fatto sempre recitare bene Tino Guazzelli a me pensa che carino mi ricordo un ricordo bellissimo era generosissimo molto a Gabriele vi è dai ma te preoccupa che cettino qua io non avevo i soldi mi portavo a Santa Lucia non potevo permettermelo e poi e io l'ho visto vita di Galileo non so quante volte bellissima ho visto persino l'ultima l'ultima la facevano all'Eliseo di Roma ma a Roma l'avevo già visto andavo ogni tanto c'era il vecchio proprietario dell'Eliseo Sperlanzoni detto in modo Cagarazzi non si sa bene perché ma lo chiamavano tutti ma tu vai da lì vai chiedi a Cagarazzi ti fa entrare per un cubac ma che te frega con le repliche Tino Buazzetto Tino non era un attore rigoroso no era un poeta ma con le repliche lui strafaceva no si allargava un po' dice allora e a Roma l'ho visto tutte le repliche che hanno fatto a Roma sono andato a vedere Vita di Galileo voi non avete idea che spettacolo uno spettacolo che non ho visto la prima eravamo io siamo andati a Milano io e Piero Fassino dice andiamo a vedere Vita di Galileo certo andiamo a vedere Vita di Galileo Piero Fassino quando era un ragazzino cos'era 1962 una cosa così e andiamo a vedere questa cosa io torniamo a Torino allora abitavo a Torino e cazzo ma questa è la cosa più bella che io abbia mai veduto nella mia vita ma non avete idea che spettacolo non avete idea e andavo 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 l'ho visto almeno 15 volte 16 e Tino Buazzelli dice ma sempre quando ti rompi i goioni io mi rompo i goioni a far sempre sto Galileo e e e alla fine quando arrivano a Roma dopo tante repliche a Gabriele eh com'è lo spettacolo l'avemo migliorato un po' perché se sei un pochettino adesso qua non c'è il maestro e se sei un po' eh ma scusa scusa Tino ma a me piaceva di più prima perché lui si era allargato per far ridere l'aveva fatto diventare un testo comico e e dice no ma sai scusa se te lo dico Tino però a me a me sembrava a Gabriele capisci in cazzo e questo è e questo è Ratino tornando tornando un momento a a Costa vediamo chiudere un attimo il discorso su Costa Costa diceva una cosa molto precisa che il personaggio non esiste lo ha scritto proprio in un suo saggio il personaggio non esiste quello che è importante è la capacità di interpretare la parola nel contesto giusto e se questo accade allora il personaggio si manifesta sono fatti un po' abbastanza misteriosi questi non c'è un modo è aperto il dibattito tecnico per parlare di questa cosa mi avviso non so un attore più interprete e meno racconta il personaggio è più interprete e più lo vive a modo suo ogni attore lo vive a modo suo ad esempio lui ha un modo di vivere poi magari siamo uguali nell'intenzione poetica del personaggio per ognuno ha un modo suo ad esempio una cosa che mi è rimasta impressa quando tu hai fatto il Macbeth c'era una cosa che tu hai fatto il Macbeth no? c'era una cosa che era l'invito a cena che tu avevi fatto che ogni tanto tu andavi a guardare sotto il tavolo ti ricordi questo gesto che facevi? che dava un senso di ma che succede quest'uomo è bellissimo quelle cose era un fatto molto artito allora ma Orazio aveva questo non so se sono del tutto d'accordo bene no non so se sono del tutto d'accordo ovviamente Orazio da un punto di vista come posso dire semiologico aveva ragione noi del testo abbiamo solo le parole dunque la parola è centrale è centrale la parola ma è una centralità decentrata per me perché comunque nel momento in cui c'è un attore in scena l'attore è il suo essere corpo e l'essere corpo è più importante della parola proprio nel suo essere corpo un personaggio fatto da me col mio corpo e con le stesse parole è un personaggio fatto da lui col suo corpo e le stesse parole sono due cose completamente diverse ma non perché io penso a un'intonazione non è un'intonazione l'intonazione vengono come vengono a volte meglio a volte peggio o meglio se uno non ci pensa mai devono devono venire da sé il logos è una cosa che nasce dalla fysis è una cosa troppo complicata per mettersi a fare il fiore l'acqua è una cosa troppo difficile e quindi bisogna pensarci ma non bisogna cercare di ecco è un mistero è difficile da spiegare certo non si può spiegare com'è perché lui quando entra in scena dice una battuta e io so che è lui e lo riconosco in quanto lui perché Anna dice ma ah scusa ah no è Glauco che fa Iago adesso no riconosco subito che è Glauco non è che se fa Glauco fa Edipo perché è uguale più o meno ci sono solo minime cose che appartengono alla profondità dell'essere a quella cosa strana che noi chiamiamo i sentimenti ma la parola sentimento è una parola complessa è difficile il sentime il sentire da cosa nasce il sentire il teatro è una cosa veramente complicata che non si può arrivare mai a capire se la capisci è finita se la capisci è veramente finita c'è qualcuno che credeva di averlo capito ma in scena gli attori recitavano così forse ora noi andremo a fare la rivoluzione interrogativa perché non si sa se la faremo o non la faremo mettiamo queste io ho visto queste cose qui e anche Glauco le abbiamo viste queste stronzate clamorose a volte anche fatte da Ronconi a volte anche fatte da Ronconi ma gliel'ho detto scusa Luca però tu un giorno vado a vedere le sue prove ti dispiace vengo a vedere le sue prove faceva una cosa una commedia del 500 c'era Mariangela Melato che faceva una parte poverina e poi e e e allora scusa Luca Luca Ronconi andava dalle sue attrici perché le attrici rispetto agli attori avevano le attrici avevano come il desiderio di conquistare sessualmente Ronconi fargli cambiare la sua naturale tendenza verso il sesso maschile e allora si capiva questo che volevano essere più Ronconiane di Ronconi e Ronconi poverino si incazzava come una bestia giustamente ma dice no devi dire ma scusa devi dire normale dice ah buongiorno come stai non più di così ah buongiorno come stai e io dico ma scusa Luca ma io ho scoperto una cosa che lo stile Ronconiano è un'invenzione delle tue attrici e di Marisa di Marisa Fabio sì sì Marisa Fabio ma io credevo che tu Fran Canuti un'altra di quelle Ronconiane era molto spiritoso Ronconi però torniamo a veramente una persona molto spiritosa dice ma scusa Luca fammi capire perché tutte le donne sono innamorate di te piccola pausa che amore mal riposto tu sai che io con Luca è veramente spiritoso che una volta andammo a fare uno spettacolo famminiato in una chiesa e lì c'era un dove facevano il seminario era vuoto e gli attori abitavano lì due per stanza io ho abitato con Rocconi e nella nostra stanza avevamo fatto la stanza della maldicenza tutte le sere la gente passava e mi dice sei questo e poi facevamo una riunione naturalmente e avevamo fuori la maldicenza esplicita scavra ed essenziale un cartello questo era Rocconi questo è spiritosissimo ma torniamo però a questo discorso che avevamo cominciato tra il personaggio e la parola qua come se uno deve affrontare un personaggio da dove cominci tutto sommato sempre da un testo ma non lo so io non non sono capace quindi non so da che parte si comincia guarda io ero un ragazzo e ero il mio attore ideale era Glauco Mauri un giorno lui recitava a Torino credo che avesse fatto anche i suoi cavalli di battaglia tipo ultimo nastro di crap che tu lo porti da secoli e stava andando lui lungo i portici di via Po e probabilmente andava al teatro Gobetti alle prove qualche cosa a fare lo spettacolo non lo so e allora io mi avvicino a lui signor Mauri dice io sono un suo grande ammiratore per me lei è l'attore più bravo che c'è in Italia dice facciamo due pari lui non si può ricordare ma io me lo ricordo perfettamente perché avevo fermato il grande Glauco Mauri che per me era l'attore più bravo e forse lo era che c'era in Italia anzi senza dubbio e dice come fa a dire a dire le battute e lui camminando un po' imbarazzato anche come faccio ma tu non lo sai non te lo puoi ricordare ma io ma dico la prima battuta e poi cerco di capire che cosa succede al personaggio che cosa in quel momento che cosa poi dico la seconda battuta e poi la terza e così via mi destreggio insomma come fa un attore che dice non lo so come le dico le dico come mi vengono e il problema difficile è che quel ti vengono quel come ti vengono ti vengono perché c'è uno studio perché dentro c'è qualche cosa che fanno fiorire queste cose vengono per fiorire qualche cosa che è importante dentro di te e come 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 non è non si sa c'è qualche cosa dentro per cui quando tu reciti ammesso che tu alla fine la differenza fra un attore e un non attore che magari anche un buon attore un professionista di di buon livello è che un attore vero come lui riesce a mettere se stesso ma è un se stesso che non è che è se stesso come col metodo dell'actor studio se capitassi a me perché non ti può capitare quello che è successo a Edipore non ti capita siamo all'interno di un mito filosofico complesso o anche soltanto quello che capita a Mauler nella Santa Giovanna Santa Giovanna dei Macelli che amerei tanto fare ma chissà se riuscirò mai a fare bello bellissimo testo eh lo so bellissimo testo ho disegnato la scenografia bravo fallo 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 sai quanti sono eh ti capisco eh però vediamo per ora lo do al 20% bellissimo testo magnifico bellissimo bellissimo testo ho disegnato la scenografia magnifico che testo meraviglioso commovè preect bellissimo che ci lasciamo perdere te l'auguro di farlo eh mi piace ti ringrazio forse lo farò perché mi hai dato questo buon augurio sì augurio vero Santa Giovanna dei Macelli sto cercando di convincere ma sai qui a Roma non si sa adesso c'è tutto l'ingiugio l'intrallazzo no capite cioè pur di di continuare l'inciucio l'intrallazzo rovinano l'altra sera lo dicevo ma scusate un po' di pudore a Roma c'è un solo teatro ormai il teatro Eliseo non c'è più diciamoci la verità l'ha comprato Luca Barbareschi caro amico però dov'è? non c'è più il valle lo volevano liberare quanti anni è stato chiuso non c'è più nemmeno il piccolo che lo occuparono lo occuparono perché dissero che volevano liberarlo perché se no l'avia ci avrebbe fatto i suoi spettacoli per la sua famiglia io non ho mai partecipato a quelle riunioni del valle così non ero d'accordo queste chiusure ovvio che non si può di accordo perché il teatro brutronico infatti o quelli che hanno occupato il valle nessuno non vedo nessuno dico ma beh qualcuno che magari lo vedo no non lo vedo più non so perché era così bello recitare al valle era bellissimo un'acustica ma adesso lo riaprono mi dicono l'anno prossimo speriamo il teatro valle la prima dei sei personaggi avvenne al teatro valle il pubblico romano notoriamente cretino alla fine dei sei personaggi in cerca d'autore probabilmente l'opera più grande mai scritta del teatro di tutti i tempi dove un'invenzione invenzionosa dove da lì c'è una compagnia che sta anzi comincia così boom 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 il macchinista oh che fai che faccio inchiodo e va bene tra poco cominciano le prove il pubblico romano cominciano a dire le prove ci vogliono prendere per il culo qui è una prova no c'era la Roma per bene che già aveva stabilito che doveva essere un fiasco e fu un fiasco clamoroso i sei personaggi probabilmente l'opera più importante del teatro di tutti i tempi fu un clamoroso fiasco e il povero Pirandello scappò con la figlioletta gli trovarono una carrozza il suo gruppo di difesa tra cui Galeazzo Ciano il quale ancora non era entrato all'interno della famiglia Mussolini stava ancora un amante del teatro appassionato di Pirandello che era un autore di rottura era considerato un'avanguardia e figurati comunque fu una serata di successo io ho visto il borderò ah si era pienissimo 1250 persone io voglio sapere dove diavolo le hanno infilate 1205 perché dicevo io ho visto il borderò dei sei personaggi del 22 1200 e passa persone dove le hanno infilate ma no ci saranno state in 4 5 per palchetto ma sicuramente con tutto il loggione pieno ma si c'era l'attesa tutti volevano vedere perché era stato stabilito che dovevano fischiarlo cosa succede che questo grande fiasco di Roma dopo lo spettacolo va a Milano ed è un trionfo dopo va a Berlino ed è un trionfo dopo va a New York ed è un trionfo perché i sei personaggi probabilmente è l'opera più importante del teatro di tutti i tempi dove c'è una compagnia che prova un testo che non c'è ci sono dei personaggi che hanno vissuto questa tragedia e che raccontano agli attori quello che devono rappresentare ma io non so come gli è venuto in mente nemmeno che genio è una dei miei cruci non ho mai fatto i sei personaggi come avresti fatto bene io l'ho fatto lo so l'ho fatto sì era un bello l'ho visto tu l'hai fatto a Milano al teatro io dove l'ho visto a Firenze a Firenze l'ho fatto a Firenze a Torino era una coproduzione di Firenze a Roma sì sì perché ma io sono Tignosetto e tornerei una cosa tu da qualche parte o hai detto o hai scritto adesso non mi ricordo io sono un attore in conflitto con il personaggio il conflitto è sempre conflitto sempre in conflitto anche il pennello è in conflitto con la tela in che cosa consiste questo conflitto spiega a noi è una come posso dire la parola lotta non è corretta però in greco è la parola eris c'è questa questa contraddizione costante recitare ma Glauco che è il più grande attore che c'è in Italia ti prego ti prego probabilmente in Europa è recitare è contraddire te stesso sempre ah buongiorno com'è e tu anche non è ora mi contraddico no il personaggio contraddice l'attore che lo interpreta anche se l'attore non lo sa perché non ha studiato o non si è non si è occupato di problemi più specifici da un punto di vista filosofico dentro quel fenomeno misterioso che è recitare ricitare citare nel già citato qualcosa che non era ancora stato citato per cui non essendo ancora stato citato vale la pena di recitarlo questo vuol dire recitare perché se lui fa amleto è un amleto lo faccio io è una cosa completamente diversa lo fa lui è completamente lo fa lui perché dice fate sempre le stesse cose mai è solo un pubblico cretino che può dire fate sempre le stesse cose non può essere ma Glauco lo sa molto meglio di me ogni sera è una cosa completamente diversa infatti amo le repliche che ha moltissime e con le repliche per me è mettere alla prova anche la mia immaginazione scopro delle cose nuove e del personaggio bellissime sono le repliche non devono annoiare mai l'attore ma no mai non è sempre diverso nella stessità non nell'uguaglianza è diverso nella stessità ogni sera è lo stesso è proprio perché lo stesso è diverso se fosse uguale sarebbe un orrore io quando faccio un personaggio non è che funziona è sempre mio è una cosa mia diventa mio questo personaggio sì sì non lo vedo è una cosa mia che invento io lo so di dire mi sento così libero di interpretare interpretare il personaggio è uno stato misterioso non so come spiegarmi tu vuoi dire che non è amleto di Shakespeare ma è amleto di Glauco Mauri c'è dubbio e forse certe mie certe mie cose riuscite dipendono da questo non sapere esattamente non avere un confine delimitato il confine è nella mia fantasia è nella mia fantasia di quel momento è nella funzione del pubblico che conta da moltissimo trovare un pubblico che sta zitto magari e trovare un pubblico conta molto almeno per me un personaggio che entra in cena col desiderio sempre di farlo trova un pubblico l'epoca dei telefonini te lo ricordi i primi telefonini il pubblico è importantissimo il pubblico per me non riesco a dividere il pubblico dal mio modo di interpretare il personaggio dal mio desiderio di interpretare il personaggio io ho una comunicazione diretta col pubblico e appena sento che un pubblico non può essere non d'accordo con me anzi mi fa piacere da volte sentire che c'è una specie di barriera tra ciò che voglio fare io e che il pubblico magari non capisce e cerco la cosa mi diverte mi entusiasma ma io il pubblico lo considero di estrema importanza non sono un autore che dice il pubblico va bene come faccio io no no il pubblico per me influisce su come faccio il personaggio è indispensabile se no non c'è il teatro è un rapporto il teatro io non sono io sono io fino a un certo momento sono io che gestisco una parte del rapporto con lo spettatore che gestisce una parte del suo rapporto con i suoi mezzi che sono inferiori a quelli dell'attore perché il pubblico sa meno cose dell'attore l'attore sa cose sa un po' di più un po' di più che un tanto di più e quindi l'attore essendo colui che sa di più rispetto a colui che sa di meno ha un compito diverso più faticoso lo deve prendere lo deve deve unire le varie individualità e farle diventare una cosa sola per cui ha una battuta comica tutti insieme fanno ha una battuta drammatica senti quel il silenzio che sprofonda concentrarsi è una cosa molto complessa non vuol dire un'esclusione dello spettatore al contrario è un'inclusione dello spettatore dentro la tua concentrazione tant'è vero che le pause possono cambiare da uno spettacolo all'altro secondo il rapporto che tu hai stabilito con il pubblico con il pubblico puoi sostenere una pausa enorme ma profonda con un altro pubblico invece sei costretto a stringere io credo che il rapporto con il pubblico è indispensabile nel nostro lavoro anche la grandezza del teatro io adesso vado al teatro Streller è una cosa il teatro Streller una roba infatti ci devo andare adesso con ho bisogno di dire altro a proposito del teatro Streller è l'opera di un architetto demente che non sapeva cosa fosse il teatro ma quasi sempre i teatri moderni sono costruiti da architetti che il più brutto comunque sta a Catanzaro che cosa? il più brutto teatro del mondo a Catanzaro? Catanzaro non mi ricordo portoghesi il più brutto teatro ci sono stato non mi ricordo bene io ci ho allestito e allora ce l'ho ben in mente l'orrore di questo no perché gli architetti purtroppo non capiscono quasi nulla e proprio vogliono inventare il teatro invece lo hanno già inventato si tratta di rifarlo senza fare danni non riescono a non fare danni non sanno perché quello lì a Catanzaro dove c'è un proscenio un proscenio che è una cosa che arriva fai conto di sette metri e dico ma la scena dove la monto no io devo mettermi dentro l'arcoscenico perché qui c'è quella che si chiama in gergo la graticcia la graticcia si appendono le scene i proiettori il proscenio è un'inutile tradizione che ha a che vedere con la rivista la rivista aveva il proscenio perché le ballerine alla fine andavano e facevano il balletto davanti ma anche questo se vogliamo essere rigorosi c'è un'inutilità questo da qui a qui non serve tutte le luci che vengono messe ecco per esempio chi ha messo i proiettori la si capisce che non è capace no si capisce l'architetto ve l'ha detto mettiamo qui i fari le ha chiamati i fari infatti sono fari ma con le luci messe là andranno a illuminare il fondale e invece le luci si devono fermare sugli attori non devono andare sul fondale perché non sanno di che cosa parlano ma persino un piccolo teatrino dell'università svela lo vedo che è stato restaurato c'è una cosa buona però una cosa buona c'è per l'acustica ha un'acustica molto buona perché hanno fatto sopra il soffitto così tac tac non so da dove l'hanno copiato perché che cosa succede col soffitto così e con questo tipo di gli è venuta forse per errore questa cosa così l'acustica c'è solo quando l'onda sonora si rompe se l'onda sonora scivola c'è l'eco non si sente un cazzo senti solo come le scale no quando si rompe e quello serve a rompere l'onda sonora magari non lo sapeva però gli è venuta e infatti qui sentite che l'eco si sente pulita le villade ha una buona acustica ci ha preso obiettivamente poi le scale rompono l'onda sonora quel ma non crediate che sia così così scontato quanti quanti teatri hai visto dove tu dici ma l'architetto qui perché lo hanno lasciato libero non l'hanno arrestato già per dirti anche quello se io vado allo streller io entro in teatro per arrivare al mio camerino io ho necessario una cosa a rotelle è immenso anche quello non è possibile se io dal camerino devo andare in scena un percorso incredibile e invece i camerini devono essere far parte del palco scena era disperato streller non glielo consegnavano mai ogni volta che andava a vedere i lavori dice quello stronzo cosa sta facendo no no non pensi pensi che io questa cosa ero ho fissato per il piccolo teatro dove me l'hanno voluto portare al grande ho detto no ma no è più grande poi vuoi venire più gente guardi io preferisco andare al piccolo di Milano al piccolo che è il teatro adesso io che devo andare a quello grande che io ho recitato fino a due giorni fa al teatro argentina di Roma che non è proprio il teatro più piccolo del mondo e però a Milano la larghezza del palcoscenico visibile è esattamente tre volte forse pure un po' di più dell'argentina allora dice come la montiamo non vi preoccupate mettete così 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 vengo io posso lasciare i tecnici che hanno un pensiero tecnico bisogna per cui noi abbiamo ma un po' risicando di qua risicando di là facendo qualche trucco però è enorme una inutilità a siro milanese enorme perché Milano un po' della Siria c'è questo no no ma ma poi il teatro di prosa è raccolto il teatro greco era raccolto sì c'erano 22 mila posti ma era un'altra cosa c'era un'altra il teatro era teatron tron il trono tron tea la dea trono della dea ma che dea è questa la ale teia la svelatezza che i latini che non capivano quasi nulla avevano tradotto con veritas essenza della barriera c'è il concetto nel teatro teatron di verità la verità come svelatezza per i greci per i latini come barriera verum muro perché il soldato romano che fa la cianchetta così al soldato nemico e lui cade fallere diventa falsum verum in piedi falsum e qui si capisce tutta la storia del nostro occidente da queste due parole i greci non hanno questo modo hanno la verità e la svelatezza ale teia è da lì che nasce il teatro se non si cambia questo slittamento referenziale che fa capire non capire come farlo perché quello è impossibile ma far capire che cos'è perché non morirà mai il teatro fateci pace voi non ci andrete non ha importanza non importa ma c'è anche all'epoca dei greci mica tutti ci andavano Platone odiava il teatro ma però comunque sia andava a vedere qualche attore che gli piaceva è impossibile il teatro probabilmente è il fondamento dell'uomo l'uomo ha capito secondo la visione greca l'uomo ha compreso chi era nel momento in cui si è visto rappresentato ah ma io sono così grasso ah ma io sono così ah ma è vero devo stare attento e e non morirà mai il cinema vi ricordate no siete giovani vi ricordate quando dicevano che il cinema avrebbe ucciso il teatro roba che poteva scrivere un critico ma il cinema è morto non è durato cento anni il teatro come lo conosciamo noi è del quinto secolo avanti Cristo ma non è nato di marmo prima era di legno e quindi ci avrà ancora qualche secolo prima e prima era e prima era davanti a un fuoco prima quando diventa il teatro greco che sembra il coso più antico è già estremamente raffinato in cima alla cavea ci sono le otri per amplificare la voce ancora di più perché loro siccome non erano personaggi era Edipo erano personaggi del mito quindi la voce era importante noi non abbiamo idea di che cosa poteva essere ma pensa se uno potesse fare un viaggio al contrario e vedere la prima volta alla prima rappresentazione dell'Edipo quando il pubblico guarda così terrorizzato perché Edipo sta per svelare alla fine che lui è il figlio della sua sposa cosa doveva succedere cosa doveva succedere il pub e ovviamente l'Edipo è la tragedia del figlio con che parola comincia Edipo con che parola comincia Edipo o tecna cioè partoriti figli nati con una tecnica amatoria per cui comincia con la parola figli ma figli tecna che non è traducibile però è partoriti è chiaro che dovendo tradurre Edipo uno dice figli perché è figli ma la tragedia del figlio comincia con la parola figli e tutti diventano protagonisti di ne so come parliamo a fa a me piace molto anche Edipo Colono magnifico magnifico io poi ho fatto questa cosa ma tu l'hai fatto Edipo Colono insieme che bravo non solo ho vinto per sì il biglietto d'oro a me quando ho cominciato quando ho cominciato nessuno mi voleva un successo clamoroso è stato l'ho fatto in due edizioni facevo Edipo Re Edipo Colono una cosa mi ricordo la prima volta che a potenza a potenza c'è un cinema dove si scendeva alla fine facevo questo Edipo Re Edipo Colono con un silenzio particolare alla fine dell'Edipo Colono fu un applauso al fine dell'Edipo Colono ci fu un attimo un silenzio e poi un grande applauso una voce di donna gridò grazie e non cominciavano tutti a dire grazie 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 a potenza di applaudire a potenza penso ed avevano visto Edipo Re Edipo Colono erano stati la te beh basta adesso non voglio più parlare di me parla di te no no che ora sono scusate Edipo Re che bello io c'avevo ancora una curiosità voglio fare l'Edipo Colono bellissimo lo so lo conosco molto l'ho letto è bellissimo l'ho letto sì l'ho letto credo al piccolo teatro di Milano ho letto Edipo Re ed Edipo Colono non mi ricordo ah c'era il covid il teatro pienissimo però era pienissimo non si facevano gli spettacoli però l'ho letto l'ho letti e dico ma io dicevo a mia moglie ma non verrà nessuno non verrà nessuno cazzo c'era il covid commovente il teatro teatroni il trono della dea io volevo parlare di un altro film di 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 Cosa dice Rainer Maria Rilke Importante è ricordare ancora più importante è dimenticare solo quando una memoria dimenticata diventerà sangue carne sudore saliva solo allora forse forse può nascere un autentico verso di poesia tanta roba Rainer Maria si chiamava Rainer Maria la dico sempre la sua memoria perché la dico sempre ai miei attori quando cominciamo le prove ricordatevi che Rainer Maria Rilke è uno dei miei autori prediletti però siccome è un genio assoluto piaceva tantissimo alle donne ma quanto piaceva piaceva così tanto e gli scrivevano in continuazione lui dava consigli è importante dimenticare ma lui è bravissimo ma non dimenticare non una volta Renzo Ricci sto scrivendo sto scrivendo un libro sul lavoro dell'attore e questo libro è scritto con una tecnica da Divina Commedia c'è un mio Virgilio che è Renzo Ricci con cui ho recitato una volta all'inaugurazione però poi siamo rimasti in un buon rapporto allora io mi sono inventato che c'è Renzo Ricci che mi accompagna per questa cosa qui ogni tanto e sto scrivendo questa cosa dove ogni tanto c'è Renzo Ricci che dico ma maestro maestro pallino perché lui mi chiamava sempre pallino chiamava tutti pallino pallino e poi quando gli facevo delle domande lui si fermava si girava verso di me e mi appoggiava le braccia qua facendo penzolare le mani dietro e mi guardava da vicino pallino maestro perché si fa suggerire la parte lei la sa perfettamente a memoria una delle cose di Ricci che mi ricordo più emozionanti è quando andammo a visitare io ero con Ricci facevamo non mi ricordo benassi che era ricoverato all'ospedale pochi giorni prima che morisse benassi che si era voluto vestire con la camicia il fiocchetto con la cameriera che era rimasto seduto in poltrona con la coperta ma si era vestito e Ricci noi ci troviamo mi ricordo portò me sbraggia e la Eva Magni e fu una serata che benassi mi disse guarda che questo è un mio allievo non è tuo siedi qui accanto a me e la cosa incredibile di benassi forse l'ho già raccontato più incredibile che a un certo punto gli aveva preso una specie di paralisi mi prese la mano e mi disse senti come ho migliorato guarda come stringo niente inesistente siamo usciti che mi ricordo Ricci che è così ha chiuso la porta ha messo la faccia con il rimorso e ha messo a piangere mi commova adesso una delle no scene che ho momenti di vita guarda incredibile Renzo Ricci e basta no comunque questa Renzo Ricci stavamo facendo l'inaugurazione del teatro argentina di Roma col Giulio Cesare di Shakespeare regia di Giorgio De Lullo Bruto era Romolo Valli Cassio era Giulio Bosetti io facevo dovevo fare la parte di Lucio il cantore per Giorgio De Lullo mi aveva detto guarda che io poi non ce la farò a fare studia la parte di Marco Antonio perché poi io faccio la prima devo fare la prima di Marco Antonio invece poi l'ha fatta sempre lui perché ogni tanto mi aggiungeva una parte Cesare Ottaviano poi un altro perché mandava via gli altri attori che c'erano e c'era Renzo Ricci che faceva Giulio Cesare e eravamo diventati non amici perché lui era Renzo Ricci maestro maestro mi scusi perché si fa suggerire la parte lei la sa perfettamente a memoria lui mi prendeva così cosa che mi imbarazzava un pochino no no perché pallino hai ragione tu la parte la so perfettamente a memoria ma non l'ho ancora dimenticata molti anni dopo leggendo Rainer Maria Rilke capì che è importante ricordare ma ancora più importante è dimenticare perché la parte non è che uno lui entra in scena a fare edipo a colono e dice oddio e si ripassa la parte a memoria no la parte sorge non può è così e come si fa a fare sorgere la parte e non lo so a volte sorge a volte non sorge o sorge male questo vestire è bello perché è misterioso non è così spiegabile razionalmente no e io voglio che sia misterioso è quello che mi piace che ci sono delle cose che non capisco però sono mie mi sento che mi appartengono sento che riesco a trasmetterle ma discorsi troppo razionali io non so farli no no ma non non è non scusatemi no ma non non si sa una cosa che io io credo di aver capito per me che può essere la cosa importante è commuovere commuovere non vuol dire far piangere commuovere vuol dire far partecipare la cosa più importante perché una volta che partecipano poi si domandano ma perché mi sono commosso o perché origina quella battuta ma l'importante è comunicare subito non so come se mi sono spiegato no no ti sei spiegato benissimo è veramente la differenza fra un attore e uno che non è attore e come riuscire detto in maniera teorica come trasformare tante individualità in un solo essere spettatore per cui esattamente ah sì no e tutti insieme ridono cioè essere con l'attore è un essere che è un essere in che sta in scena ma è un essere con perché sta con gli spettatori è un essere per il testo sono tre esseri è difficile entrare in scena perché la parte deve sorgere o il personaggio o quello che vuole nel teatro giapponese per esempio c'è questa nel no gli attori lungamente stanno dentro la camera verde che è proprio prima di entrare nella namici conosco molto bene il teatro no no entrano dentro questa stanza perché è il momento di passaggio ma guarda in questo libro c'è un capitolo intero che è che racconta questa cosa qui questo che racconta questo da qui a qui e sono Glauco ce lo potrebbe raccontare molto bene sono entri in un altro mondo non ci pensi magari ma lo sai ed è sempre comincia con una ispirazione non entri facendo così no è il respiro che in greco si dice psiche e che vuol dire anima ma anche vita intesa vita come anima è importantissimo quel primo respiro è la cosa più importante che differenzia un attore dall'altro ogni attore o attrice lo fa in un modo diverso ma lì nasce tutto per te è lo stesso per te è lo stesso Glauco l'importante è di io ad esempio io non 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 perdo molto tempo quando sono in camerina a pensare al personaggio niente io mi metto in quinta se deve entrare oppure sia principale e comincio è certo ognuno perché l'avevo spento no che ora abbiamo fatto perché sono muto adesso chiudiamo io direi che su questo sul ispirare o entrando ispirando ispirando no no ha ragione lui si rientra così che ti entri così no no è possibile è possibile su questo possiamo lasciare la parola a voi se ci sono qualche domanda e poi chiudiamo curiosità osservazione è acceso il microfono lì se no guarda dai dai ciao ok si salve io sono stata qualche giorno fa all'argentina e a vederlo ovviamente le volevo chiedere da un punto di vista registico lei come si pone e che tipo di lavoro svolge a me ha molto colpito scenicamente il suo progetto insomma il suo lavoro e la sua risoluzione per Goldoni quindi le volevo chiedere la sua costruzione della scena e la sua conduzione attoriale come si pone lei lo spettacolo che abbiamo fatto adesso all'argentina è uno spettacolo molto complesso è molto complesso dal punto di vista anche se molto semplice alla fine il pubblico ride tanto gli piace la storia è una storia semplice una storia d'amore Goldoni però nella sua costruzione è una costruzione molto complessa perché nelle due nelle due canzonette che ho scritto all'inizio si dice appunto il teatro è una svolta misteriosa dove l'inizio torna sempre a noi spettatori ed attori teatranti ricercano un inizio tutti quanti per diventare un avvenire storico nel presente qui rappresentato non è un concetto semplice glielo diamo così con una canzonetta però è questa stessità non uguaglianza stessità tra spettatori e attori che fanno sì che il teatro possa essere un teatro nel nostro caso cambiando come posso dire i fattori dove gli attori e gli spettatori sono teatranti la scenografia rappresentava un teatro tutto insieme dove c'erano delle poltrone di teatro in scena dove c'erano degli spettatori seduti lì e poi noi spesso andavamo in platea perché spettatori ed attori teatranti ricercano un inizio tutti quanti per diventare un avvenire storico perché anche se il pubblico non lo sa non lo crede ma nel momento in cui viene a teatro non lo sa è distratto ma è cambiato è cambiato anche se non se ne è accorto anche se è distratto anche se ha guardato sempre il suo stupido telefonino dove sicuramente manderà dei messaggini stupidi cretini ma non ha importanza è comunque un piccolo cambiamento per alcuni di più per alcuni di meno per alcuni per alcuni determinanti io ho rovinato tanti esseri umani che hanno voluto fare il teatro poi alcuni hanno avuto successo sono riusciti come si dice altri invece poverini si sono rovinati la vita perché il teatro può rovinare la vita mica è difficile io non sono capace comunque è questo lo spettacolo è uno spettacolo complessissimo perché tanto non c'è magnetofono la musica è tutta fatta suonata tutto accade lì in fondo la scenografia cos'è? un camerino è come se avvenisse tutto nella mente di un attore che dorme perché è vecchio e avviene tutto nella mente di questa di questa persona così poi abbiamo ho avuto una compagnia di persone veramente speciali ma perché tutti vecchi amici siamo e allora è stato bello provare è stato faticosissimo però almeno fino adesso adesso non posso fare un gesto di fronte a un inclito pubblico come questo ma metafisicamente lo faccio cioè mi tocco le parti intime perché dobbiamo andare a Milano che come diceva prima Glauco è un teatro brutto enorme il palcoscenico è largo almeno quattro volte l'Argentina è una cosa che non ha sé Milano è un gran Milano ma il teatro è una cosa piccola comunque spero che no sono contento perché ci saranno tanti amici vecchi amici Giancarlo Dettori Francanuti lo so ci sarà Ferruccio Soleri il più grande Arlecchino Ferruccio per esempio io in onore di Ferruccio Soleri nel testo non c'è il personaggio di Arlecchino però c'era un signore che arriva dice una lettera per voi ah sì fammi leggere sì va bene porta la cosa allora dico guarda a quello che faceva sto ragazzino senti ti voglio far fare la parte più bella della tua vita non fai ragazzo fai Arlecchino perché Goldoni odiava le maschere Arlecchino in questa cosa certamente l'epoca in cui le maschere noi ce le rimettiamo tanto non se ne accorge nessuno tu vedrai che successo che hai io ho fatto Arlecchino quando facevo l'accademia d'arte drammatica al saggio di regia di una mia amica Maricla Boggio io ho fatto la parte di Arlecchino e venne Ferruccio Soleri a insegnarmela e siamo diventati amici e poi c'era un altro attore che aveva fatto un corso di maschere e allora dico guarda l'importante è questo io mi ricordo che mi disse Ferruccio Arlecchino è una maschera di tre quarti non è una ma così questo è Brighella pantalone è di profilo Arlecchino è di tre quarti abbiamo fatto un po' di esercizi così ricordati il passo mi ricordavo ancora da non so quanti secoli fa che Ferruccio mi aveva insegnato questa cosa dico poi c'era un altro attore che aveva fatto le maschere e quindi trampò io un po' lui un po' il suo talento abbiamo inventato questo Arlecchino dico avrai sempre l'applauso perché Arlecchino quando esce ha sempre un applauso anche se lo fai male dico tu sei portato vedrai che verrà alla prima se non è mi auguro che verrà viene sempre a vedere verrà Ferruccio Soleri e lui ti dire io te lo porto in camerino e gli dico di dirti due o tre segreti tre trucchi e avrai certamente veduto il più grande Arlecchino del mondo che ancora è lui anche se adesso lui l'ha insegnato a un altro e magari ti dirà qualche cosa e e sto ragazzo è così è un trionfo Arlecchino una scena piccola piccolissima arriva mi viene Arlecchino anzi vieni qua ragazzo chi sei mi sono Arlecchino un batoccio orbo orbo di un'oreccia e sordo di un occio e porta questa lettera a quell'altro attraversa la scena quell'altro fa sputa sulla lettera e me la riporta cosa ha fatto ci ha sputato sopra e poi vai esce fine applauso dice due parole ma Arlecchino è così bello che è troppo bello perché ci sono tanti per esempio che si sono piccati dentro il teatro cioè il teatro non è generoso o uno c'ha perché attori si nasce non si diventa non è un merito puoi imparare qualche trucco ma sono trucchi che impari facendo tante parti ma devi studiare molto ma puoi studiare a fare l'attore come si fa a fare quello si studia ma essere attore non lo puoi studiare sei un attore come un altro non lo è non è un merito è una qualità innata poi bisogna studiare tanto molti che si sono voluti intignare a fare per forza l'attore e hanno rovinato la loro vita ma mica pochi non è generoso il teatro però è bello è come una donna bellissima non è che le donne a volte magari una volta o due te la danno pure ma tutte le volte la devi conquistare non l'hai presa per sempre non è una moglie fedele è un amante quindi attento a te però come continuazione se uno crede il teatro io già lo vedo gli vedo la maledizione vedo l'angelo nero dietro le sue spalle vai no dico nel senso come dice lei molta gente si è rovinata perché ha studiato per diventare attore però probabilmente non c'era quel fuoco sacro dentro quantomeno non era portato per il teatro ma questo quando legge questo si riferisce anche al fatto che probabilmente anche se c'è questa cosa in quella persona ma nel tempo non riesce anche quella persona si sta rovinando oppure non so se mi sono spiegato una cosa un po' no ma guarda è come è molto semplice se vuoi fare la che ti posso dire il tiro col giavellotto uno ti guarda un tecnico vero e ti dice no perché mi piace tanto il giavellotto no si puoi tirare il giavellotto ma non potrai mai fare le gare non hai proprio è una questione di misure per lo sport dice ma voglio fare il centro avanti no terzino ma io voglio fare il centro avanti no terzino è quello che in greco si dice la physis c'è la physis e allora c'è niente da fare è così per l'attore ci sono non si diventa attori si può studiare ma attori si nasce è un attore dentro non è che io ti vedo e so dire tu sei un attore e tu non sei un attore questo non lo so dire uno ti sento e magari penso ma secondo me questo non potrà fare mai l'attore però l'ho detto a uno solo che non poteva fare l'attore ora è multi 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 miliardario ed è un mio carissimo amico sì è un mio carissimo amico e tutte le volte che lo vedo spessissimo me lo ricorda dice e mi ricordo quando me l'hai detto ho pianto tutto il giorno e e gli ho detto no guarda io capisco che tu ami tanto questo il teatro ma credimi non ho la verità in tasca ma credo che il teatro non sia per te non perdere tempo possiamo chiudere questo incontro su questa come dire vocazione legata e spero che verrai qui all'università presentare il libro sul il tuo libro che stai preparando lo devo finire mi manca poco cioè il libro è tutto finito solo che devo dettarlo perché io non so scrivere c'è una carissima mia amica è solo che ho cominciato le prove dello spettacolo sono andati in scena la cosa adesso devo andare a Milano domani credo che vado avanti ma mi manca pochissimo ma noi sappiamo aspettare c'è pure l'editore ma dice Gabriele ma avevi promesso che me lo davi buona pausa buona pausa buona pausa bravo 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 io mi ricordo ancora qualla spada dito andronico non mi ricordi? ma veniva giù ciao ragazzi grazie 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 grazie